Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 per incidente al chilometro 412, 4 chilometri di coda e traffico bloccato tra Fabro e Chiusi in direzione Bologna e 4 chilometri di coda e traffico bloccato tra Valdichiana e Fabro verso Roma. Rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano in direzione Roma. Spostandoci sulla Fipilin in direzione Mare, 1 chilometro di coda per lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco. Sul raccordo Siena-Firenze verso Siena per lavori. Rallentamenti tra Firenze in Pruneta e San Casciano in Val di Pesa e tra Siena Nord e Siena Acqua Calda. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!